ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi video acquisti fatti da euro spin e aldi inizio subito a farvi vedere le cose di euro spin perché sono veramente stupende e partirei da una cosa pucciosissima ovvero un astuccio troppo bello believe in magic con su un unicorno no fucsia questo è semplice perché si apre in questo modo e dentro è così semplice semplice però molto molto carino e questo il primo acquistino poi ho trovato questo set che adesso andiamo a vederlo insieme allora è composto da questo bellissimo astuccio con la parte dorata e con questi bellissimi fiori e dentro è foderato l'unica pecca è che la fodera arriva qua quindi praticamente è stato rubato più di un centimetro di astuccio quindi adesso vedrò un attimino se magari scucirla e rifarla però vediamo un attimino comunque per mettere dentro le penne ci sta va benissimo poi sempre in questo set abbiamo queste due matite color salmone con le striscioline oro in foil sempre a tema floreale abbiamo un righello righello da 15 centimetri a tema abbiamo il temperino poi c'è la gomma che è semplicemente rosa e la penna questa devo dire che è molto bella rosa tipo antico coi pua oro questa scrive vediamo subito scrive di nero ma è molto scorrevole l'inchiostro e questo è il set veramente carinissimo ce n'erano ce n'era un altro tipo che invece delle matite gomma mi pare avesse dentro i post it però io preferito prendere solo questo set poi sempre all'albi scusate sempre l'euro spin ho preso questi set di pennelli non so se sono carini non so se sono funzionali cioè se funzionano bene però erano molto carini i colori si le setole sono di nylon col manico in plastica colorati e ho preso questi questi 4 e poi questi sempre con le setole in nylon questi adesso sono un po duretti perché hanno sulla colla però molto carini anche per fare qualche qualche progettino l'ultima cosa che ho preso all'euro spin sono gli evidenziatori della faber castel color pastelli guardate che belli allora io direi a questo punto di provarli vabbè abbiamo il giallo che questo però non è pastello ma è il colore solito giallo fluo evidenziatore abbiamo questo color pesca salmone molto carino poi abbiamo il rosa il viola il viola il viola è bellissimo poi abbiamo l'azzurro questo mi sembra più un azzurro normale più che pastello vediamo subito il verde bello tonalità verde tiffany poi un verde un po più chiaro ed infine il grigio davvero stupendi quindi quando li ho visti la non ho potuto non prenderli ecco invece all'aldi ho acquistato allora questi fogli per la plastificatrice è un pacco da 100 pezzi e sono grandezza 65 x 95 mm li ho presi perché secondo me sono perfetti per fare i biglietti da visita quindi magari farò quando riprenderò a fare i miei lavori i biglietti da visita li andrò a plastificare tutti e poi ho trovato questo blocco di carte in foil dove abbiamo questa ve le faccio vedere così poi dietro questa sul tono del viola rosa con le scritte love tutte in foil poi questa bellissima con i fiori di ciliegio possiamo dire un fiori di pesco questa con i colori un po più autunnali un po più stile volpi secondo me poi abbiamo quest'altra e l'ultima questa veramente carina con tutti questi triangolini Aldi ed Eurospin questo veramente è stupendo bene ragazzi io vi ringrazio ancora per avermi seguito vi invito a lasciarmi tanti pollici in su iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti io vi ringrazio per avermi seguito vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao